Musica Seduta prudente per le principali borse del vecchio continente, inclusa piazza affari, acquisti a piene mani su UbiBanca. Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti automotive, assicurativo e costruzioni. Tra i più negativi della lista del mercato azionario italiano troviamo i comparti viaggi e intrattenimento, utility e petrolifero. Lieve aumento per l'euro-dollar USA, che mostra un rialzo dello 0,23%. Tra i dati macroeconomici più importanti, in aumento, oltre alle attese degli analisti, il surplus delle partite correnti della zona euro, mentre riparte a novembre il settore di Lennitalia. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e le scorte di petrolio dagli USA. Attesa una partenza incerta per Wall Street, in particolare il future sull'S&P 500, si muove invariato, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA, che scambia 5.051,25 punti. Grazie. Grazie a tutti.